ciao allora oggi parliamo di nuovo di cura dei piedi e le parliamo con questo prodotto del livre rocher eccolo qua mostro ok questo è il balsamo riparatore alla lavanda bio è dato ai piedi proprio la confezione è un 50 ml e il prezzo l'ho segnato è di 9,95 euro ma è scontabile quindi con le offerte promozioni oppure con le cartoline mensili tranquillamente lo sconto del 30 40 50 per cento e quindi è anche un buon prezzo allora anche se è una confezione che sembra piccola e vedete che io l'ho proprio finita mi è durata davvero tanto perché basta poco prodotto ma poco davvero che è bello ricco e corposo si massaggia e assorbe immediatamente ha un profumo di lavanda davvero si lo ricordavo bene sa davvero di lavanda oltretutto sembra che rinfresca anche ma nutre davvero lo trovo perfetto sia per l'inverno quando usiamo comunque sempre le scarpe chiuse e quindi vogliamo andare a dare una rigenerata un attimo ai piedi magari dopo la doccia ma anche in estate o in primavera quando i talloni soprattutto con le scarpe aperte che sono un po secchi in questo caso davvero wow perché basta applicarlo e siamo già pronte quindi davvero ha un potere idratante davvero molto alto poi è un balsamo che comunque assorbe immediatamente io per adesso devo dirlo è il prodotto per la cura dei piedi che mi è piaciuto di più tra quelli che ho provato quindi ok leggevo se c'era qualche alta indicazione in più ma decido usarlo una o due volte alla settimana quindi confermo assolutamente senza parabeni senza coloranti e componenti di origine animale quindi davvero l'inci non è affatto male oltretutto il prezzo è buono io ve lo straconsiglio sia in inverno se come me avete dei problemi volete tenere in piedi idratati ma anche in estate davvero solo la parte esterna dalle scarpe oppure un massaggio ai piedi perché comunque quella lavanda è anche un po rigenerante e rinfrescante perfetto anche come massaggio io ve lo straconsiglio e lo ricompro anche io appena è in offerta quindi fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate io come sempre spero di essere vi stata utile e se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanella così valete avvisate ogni volta che carico una nuova accensione e alla prossima ciao